na 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 ni na ni na na wowè wowè oh ok che sono vieni tu eh ci saranno due certi amici siamo a mezzare la vigna è un bacetto ora va bene vabbè stiamo mettendo un bagno non è che ci sono un guardo ma bene non è non è non è non è oh mamma mia e dove sei stato oggi? eh pensate che gli amici mi fanno passeggiata ma che hai lo biglietto che ti hanno rindaggio a chi? quale biglietto? un biglietto con un numero di telefono ah quello sono i bulletti che ti hanno giocato di cavallo che mi ha fatto giocato di cavallo ah ma che sei assiuto pazzo? ah sono assiuto pazzo giocato di cavallo e che devo numero di telefono no non è un numero di cavallo di telefono è un numero di cavallo eh mamma che hai qui? ma non me lo dispiace eh ti dispiace hai fatto un bobbone mamma adesso tu sei che sei geloso? metti i numeri di telefono così ma tu sei esagerato tu sei geloso io sei esagerato te la vado un bacio uiii scicraziato mamma che vena uuuh 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 uuuuh uuuuh uuuh uuuuh uuuh uuuuh 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 e telefonata a cavallo, lo so